Nuova polemica fra Battipaglia ed Eboli. A sollevarla questa volta il consigliere di Forza Italia Valerio Longo che torna sulla questione delle aree di proprietà del comune di Battipaglia e gestite dal comune di Eboli in località Campolongo ed utilizzate attualmente come parcheggi. Un problema noto da tempo che vede il mancato versamento da parte di Eboli per tramite della società che dal 2015 gestisce il parcheggio della quota aspettante ai proprietari. Ad oggi, spiega Longo, parliamo di circa 50.000 euro mai pagati. Questa incredibile storia potrebbe anche configurare delle ipotesi di reato. Paradossalmente, inoltre, il comune di Eboli ha già pubblicato il 31 ottobre 2018 un nuovo bando per il triennio 2019-2021. Quanto al nostro comune, che avrebbe già dovuto attivarsi un anno e mezzo fa con l'assessore di uffici preposti, adesso sta procedendo nella verifica dell'intera vicenda. Occorre attivarsi con celerità, visto anche il possibile danno erariale subito dall'ente, muovendosi anche sul fronte civilistico verso la ditta concessionaria dei parcheggi per tutti gli arretrati e sul fronte penale contro ignoti.